Buonasera a tutti, siamo qui a Santuario di Cestocova che stamattina abbiamo visitato. E' quattro giorni che siamo in Polonia, siamo stati accolti molto calorosamente dalle famiglie. Il giorno seguente abbiamo visitato i campi di sterminio di concentramento di Auschwitz e di Birkenau. Il giorno seguente le parrocchie hanno organizzato delle gite e ci hanno portato per esempio a visitare delle miniere. Poi hanno organizzato un barbecue dove siamo stati tutti insieme, abbiamo ballato e ci siamo divertiti, anche in Polacco. Adesso i prossimi giorni dovremo, sabato ci sarà una grandissima festa all'aeroporto di Katowice dove saremo tutti insieme con altre nazioni e ci sarà da divertirsi. Poi prossimamente partiremo e ci raggiungeranno anche gli altri della seconda settimana per andare finalmente in Polonia a Cracovia. Quindi noi vi aspettiamo e ci rivediamo per quando arriverà il Papa e intanto vi salutiamo. Ciao a tutti! Ciao!